Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Perché non mi hai aiutato? Ma vai a fare in culo che stavi prendendo il potenziamento scappa scappa Ho capito che scappo scappo finché non mi prendono rallento un pochino Certo ciao franco pisna ciao bro Signori mentality abbiamo appena vinto una rank in diamond 3 Mi sento immortale Quanto era la casa Manazza non so come si può mettere cioè non so neanche quello che devo fare Gria macarena per tuo corpo ballare allegria cosa buona Nice Merda Ecco per i risultati Ciao GMG dammi un secondo Parato 4 easy Parato 4 easy cioè raga Che palle sti cecchini raga Devo fare un attimino una faccia per manazza Dai andai a ridere manazza Pigliatela manazza Pigliatela eh Che andava bene A posto perfetto Molto veloce con manazza Fare le cose Signori vi stavo per dire C'è una novità Ed è importante che voi la conosciate ragazzi Perché Perché è importante Sapete che questo Sabato Noi dovevamo suonare Abuti In provincia di Pisa Beh ieri sera ci hanno modificato la location Addirittura volevano farci saltare con Good morning Power K It's Adi Buongiorno anche a Adesso vince lui il fight 100-100 No no vince lui Noi di a spazio No ma c'è l'altro sopra Bello Dai crepe merda Easy Godo Dai schiata Bene Grazie Logitech Grazie Questa è veramente un bel gioiellino raga Questa è veramente un bel gioiellino Fighissima Poi quando chiaramente pomeriggio avrò due secondi La installo nella mia postazione E Dico solo Quando mi piace tutta la verdura Io mi chiedo perché Gesù è bravo Non so perché Ma ti può sembrare che questo qua sta sparando No io non ci voglio Non è possibile raga Questa cosa è matematicamente impossibile Non è possibile questo sapeva dove fossi Non è possibile Cos'è che si chiede Efren? Perché io sia grassonno mi piace da morire tutte le verdure e tutto quanto E non riesci a comprendere Perché lei si sfonda Nettuno Mi sfondo Però a dietro non mi dispiace perché mangio tutte queste cose Verdurine Zucchine Cavolfiore Broccoletti Dio Madonna del Dio Cristo Dio Dio a questi qua che anche in toscana ci sono persone che vengono a vedere il concerto degli spork prima data in toscana che faccio raga prima data concerto inizia verso le 21 e finisce alle 23 3 morto quasi l'edgar morti tutti è tosta è tosta oggi le cose cambiano nettuno sono spaccato pesantemente a capire come funziona jesse io ho preso il gadget quello viola abbiamo vinto nettuno non c'ha senso la torretta potenzata del 25 per cento con il gadget che gli velocizza del 50 per cento gli attacchi vuol dire esattamente che il momento in cui uno mi puccia io metto giù la torretta lui muore possiamo di avvicinare messa in centrali loro no 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 nel senso cioè non esageriamo ecco questo nato netto c'ho provato cazzo sono vivo io pensavo che ero morto e passavo di essere stato io con lo stonato scusami quasi morto lui non ci credo li sta voltando addosso però gli ultimi tre colpi le sparati contro un muro nettuno per quale motivo usi l'automira va bene dai ultimi tre colpi le sparati contro un muro nettuno dai no ma come no adesso dopo riguardo figa dopo riguardo e voglio il voto review adesso perché gli ultimi tre colpi le sparati contro un muro con lui one no c'era il suo gadget in mezzo ok ho sparato il gadget porca la sere porco porco il cazzo sereno ha fatto la pazza ma che cazzo fa che cosa cosa cazzo fa serena pazzerella all'oxiuderello si abbondata qua che cazzo fa ciao sere buongiorno nessuno 19 luvia erza museo nice grazie sere e ai mattone build a mattone metallo lascia prendere legno adesso per la rotation gente dietro non mi prendere gli edit non mi prendere gli edit non l'ho presi non può allargare su vai dritto se non incroci sempre più gente vai dritto che andare la white line mi scivola facciamoci un attimo andiamo avanti boxe la regata di avanzare dove avanzare spiegate mazzo tempo e gente che vi vuole dare andata 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 sono morto porco diaz scendi rettono vieni sono morto da caduta potrò la posti l'aria così però grazie 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 5 trofei dai sirone da il vomito neone dai no no sembra a te mi dissocio vai tranquillo dai come on ok tan 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 il grom attenzione oggi è difficilissimo cristone ha già pusciato a fare il culo mori faglia di puttana vai ok non uso mortis mortis ruote alla pala infliggendo 1692 punti danno a tutti i nemici vicini è un buon gadget è un buon gadget sul mortis un momento è a non avevo gadget su mortis quindi è finito i colpi hai finito i colpi città